Automatizzare gli accessi con gli affitti brevi, il self check in, check out, vediamo queste cose automatiche che schiacci un bottone, si apre la porta, entra il turista e tu diventi ricco. E scopriamo veramente che cosa c'è dietro. Ha queste cose che sembra che tutto sia facile, schiacci un bottone, e arrivano orde di turisti a casa tua e tu sei lì sul divano con i piedi sopra il tuo bel pouf, la tua birrettina, la tua mogliettina, la tua tv e i soldi arrivano a fiotti nel tuo conto corrente. E oggi Mickey vi dirà la verità. Prima però come al solito ho fiato alle trombe. No, anche oggi non l'abbiamo messo, quindi mi dispiace, nessun fiato alle trombe. Oggi il video sarà genuino e naturale. Allora, avevo fatto un piccolo video, proprio corto corto corto, dove parlavo delle automazioni, di questi self check in, senti, self check in, appartamento, nel condomino, queste cose meravigliose. E le persone, qualcuno mi ha scritto, mi ha detto, Mickey, finalmente hai detto la verità. Allora, che cosa c'è? Sì, adesso non so da dove partire, adesso però piano piano ci arriviamo. Perché? Perché rischiate di perdere dei clienti, dei turisti, clienti? Allora, facciamo una distinzione perché do per scontato. Se voi affittate la vostra casa, il vostro appartamento, la vostra casa vacanze, siete in un mercato turistico, ok? E avete degli inquilini. In realtà gli inquilini chi sono? I turisti. I turisti che vengono per un giorno, due giorni, sette giorni, dieci giorni, in realtà sono inquilini. C'è qualcuno che li chiama guest, c'è qualcuno che li chiama turisti, ma in realtà sono inquilini. Ok? Gli inquilini che voi avete a casa vostra, o chiamateli turisti, Se voi automatizzate le proprietà, che secondo me è una grande cavolata, per non dire stronzata se si può dire, ma la dico lo stesso, e quindi mi scuseranno per il linguaggio colorito le signore, perché? Perché, come ho detto nel video, adesso lo approfondiamo, andiamo in verticale in questa situazione, quindi andiamo a spiegarlo nel dettaglio, perché il turista, il turista, signori, vuole, cosa vuole? Vuole il calore. Il turista, quando viene a casa vostra a portarvi i soldi, vuole, vuole vivere un'esperienza il turista. Il turista vuole venire lì. Certo, quell'esperienza potrebbe essere anche semplicemente star nel vostro appartamento e andare nella piscina sotto casa. Per lui è già tanto, perché magari è abituato a stare al trentesimo piano di un condominio, non scende mai, e quando scende ha il cemento e quindi vuole stare nell'appartamento che vede magari il bosco, e però ha la piscina e vede anche i cervi che passano. E quella per lui è già una bella esperienza. Ok, signori? Però se voi, voi, con il vostro self-check-in, schiacciate il bottone, arriva il turista, e poi attenzione anche ai documenti, perché il turista potrebbe darvi dei documenti diversi. Certo, voi dite, ah, ma c'è ebooking, Airbnb che le elabora in un modo diverso, poi ve li manda, però voi prestate molta attenzione, perché non toccate con mano il vostro documento. Quindi potreste avere anche delle grane. Non vi sto a spiegare e approfondire qui, perché non voglio alzare un vespaio, però prestate molta, molta attenzione ai documenti che vi inviano in automatico, direttamente su Booking. Perché Booking ne ha milioni di documenti da analizzare, e non credo, vabbè, lasciamo stare, perché alziamo un vespaio. Quindi, voi che schiacciate un bottone a distanza, arriva il turista, vi porta i soldi, se poi ha bisogno di qualcosa, va via la luce, che cacchio fate? Ok, ci può essere una persona in loco. Certo, va benissimo una persona in loco, ma la persona in loco poi sa fare, sa curare i vostri interessi, è disponibile. Se quella persona in loco non è disponibile, mettete il caso anche a questa situazione qui. Può succedere, va via in quel momento il wifi, e voi non potete aprire la porta perché c'è un blackout. Che cosa fate? Voi siete a Como e gli aprite la porta a Roma. Ok, cosa fate in quel momento là? Spieghiamo per chi non lo sa, che l'automazione degli appartamenti ti permette attraverso il tuo telefonino, in un'applicazione che tu hai, di controllare gli accessi o le aperture della porta su determinati immobili che sono a distanza anche di migliaia di chilometri, ok? Perché sono connessi a internet, tu schiacci il bottone, attraverso una combinazione si apre la porta, l'ospite entra e non hai bisogno di consegnargli le chiavi. Certo è una figata, è molto comodo, ma io lo tollero solo in alcune circostanze. L'ospite, soprattutto se voi vi rivolgete a ospiti che vengono lì per 3, 4, 5, 6, 7 giorni, quegli ospiti lì signori sono una ricchezza. Sono una ricchezza in quale modo? Voi lo sottovalutate perché fate delle gran cavolate sottovalutarlo. Voi dite, ah, tanto viene solo una volta, una grande stronzata. Noi nel bed and breakfast, io ogni tanto lo cito perché ne andiamo molto fiero. Io quando ero ragazzino con il mercato turistico ne ho avute assà, ne ho avute veramente tante di esperienze e ho capito cosa vogliono i turisti, come si muovono e perché vengono a casa tua o vengono nella tua struttura o perché vengono nel tuo hotel a portarti i soldi. Quindi il turista quando spende dei soldi vuole vivere un certo tipo di esperienza. E se voi siete freddi e gli aprite il bottone, e poi questo praticamente si deve arrangiare, e non gli date quel calore, signori umano, non dimentichiamoci che siamo umani, vogliamo veramente diventare dei robot, dei robot dove poi alla fine non abbiamo neanche più il contatto umano, ormai siamo dietro al computer, pensate a questo, siamo dietro al telefonino. I figli negli hotel sono praticamente perennemente, non sto giudicando, attenzione non sto giudicando, ognuno della propria vita fa quello che gli pare, io esprimo il mio parere, quindi esprimere il mio parere, se non ti va bene, c'è il bottoncino e arrivederci. Però in realtà, pensate, vi sto facendo ragionare, perché noi siamo presi da mille cose nella testa, siamo sempre di corsa, non abbiamo neanche il tempo per pensarci. Quindi dietro al computer, questi bambini con sto telefonino, davanti alla televisione, sempre con la testa per aria, e poi pretendiamo di schiacciare il bottone, aprire la porta al turista e noi diventiamo anche ricchi, ma anche no, quindi vogliamo mantenere anche il contatto, il calore umano con chi viene da voi a casa vostra a portarvi dei soldi. Ok, vi ripeto, in alcune circostanze, dove voi non potete in quel caso presenziare, ci può stare, guardi, non riesco oggi, ma arrivo domani e intanto le apro la porta, ci può stare, cioè è comodissimo, una figata, io sono pro per le innovazioni. Le innovazioni, signori, sono una grande, una grande invenzione umana, e se non avessimo le innovazioni oggi, gli aerei non ci sarebbero, non avremmo l'acqua calda in casa, non avremmo il telefonino, non avremmo tante cose che noi abbiamo, grazie alle invenzioni delle persone, saremmo ancora col calesse e l'asino, e dovremmo prendere il calesse e l'asino, per andare ad aprire la porta al turista, quindi ci sta l'automazione, però dovete pensare che di non abusare di questa situazione, se voi abusate quel turista lì, che vi ha dato dei soldi e vive un'esperienza fredda, dove con gli amici arriva a casa e vi dice, ah ma guarda io non ho neanche conosciuto il proprietario, sono arrivato in questa città, non sapevo neanche come muovermi, non ho avuto, mi mancava questo, e ho dovuto aspettare la signora il giorno dopo, mi mancava quest'altra cosa, e ho dovuto aspettare due giorni perché non arrivava, insomma porterà a casa una pessima esperienza della vostra situazione, perché presenziare lì, magari non troppo, perché dopo il turista altrimenti vi fa un fantoccio, vi dice questo è sempre disponibile, voi siete lì in ginocchio al suo cospetto, pronto, questo vi chiama, e voi arrivate lì, non va neanche bene, neanche questa cosa qui, c'è da mettere naturalmente un filtro, c'è da comportarsi anche in un certo modo col turista, bisognerebbe già educarlo fin da subito, noi lo facciamo in tre passi avanti, che è il percorso passo passo, dove affianco il proprietario, ok, nella sua esperienza con gli affitti brevi, dove alziamo l'asticella, e dove lo aiuto ad alzare le prenotazioni, a differenziarsi, a rivolgersi a un mercato turistico completamente diverso, rispetto a quello vomitevole, dove fanno tutti, tre passi avanti, io spiego esattamente come educare il cliente, cioè il turista in un certo modo, e come anche posizionarsi sul mercato turistico, in un certo modo, proprio per differenziarsi dagli altri, che stanno facendo la guerra del prezzo, quindi è importante che voi come proprietari, come host, siate calorosi con il turista, ha bisogno di un dettaglio glielo date, ha bisogno di una cosa in quel momento lì, gliela potete dare tutto telefonicamente, è una pessima idea, perché? Perché poi il turista, che il vero segreto è farlo ritornare anno dopo anno, noi avevamo i turisti che ritornavano anno dopo anno, è lì il segreto, non avete bisogno di cercarvi, dovrei avere un peluzzo dentro il naso, mi dà un fastidio pazzesco, io lo devo dire a mia moglie, ah, scusate, e allora, cosa dovete fare? Dovete cercare appunto di ragionare con molta attenzione, senza buttarvi su un mercato, perché fanno tutti così, schiaccio il bottone, no, perché alla fine voi non vi arricchite, in questo modo sarete uno dei tanti, sarete una classica commodity, e la gente poi alla fine non torna più, invece il segreto è fare in modo che la persona torni, se non torna arriva a casa, parlerà bene con i suoi amici, con i suoi parenti, con i suoi cari della vostra situazione, condividerà questa esperienza, e le persone ritorneranno da voi anche con il passaparola, così voi avrete bisogno di far meno pubblicità, avrete automaticamente delle persone che ogni anno vi dicono che vogliono ritornare da voi, ho fatto già l'esempio di mio zio, io con gli occhi ho veramente rubato il lavoro degli altri quando ero ragazzino, e quando ero in hotel, io ho imparato moltissimo da mio zio, ho imparato anche quello che non bisogna assolutamente fare con i turisti, e che io vedevo già, ma l'ho realizzato poi a distanza di tempo, e quindi che cosa bisogna fare, che cosa non bisogna fare, mio zio aveva persone che tornavano per 20 anni, 25, 30 anni, davvero, nello stesso hotel, certo una palla, me ne rendo conto uno che torna tutti gli anni lì, però è lì il vero asset, il vero asset e la vera ricchezza, perché è la persona che ti torna, quindi tu hai una persona in meno da cercare, non hai bisogno di cercarne 100, ne basta che ne cerchi 99, poi passano gli anni, avrai sempre più giro, sempre più conoscenza, sarai riconosciuto in un certo modo, e quindi le persone ti sceglieranno, attraverso le recensioni positive, attraverso delle fotografie, attraverso tante cose, per esempio, mi ricordo che noi avevamo delle persone che si arrabbiavano quando non trovavano da noi il posto, e si arrabbiavano tantissimo, ah io ma voglio ritornare, non ha una camera, dovevamo mandarli magari da qualche altra parte, vivevano comunque l'esperienza pessima, e poi comunque ritornavano da noi, perché non si erano trovati bene, come da noi, e lì non dimenticatelo, in questo mondo che corre, non fatevi abbindolare, ah io ho 10-15 appartamenti, schiaccio i bottoni, si apre tutto, è una grande stronzata, dovete correre da mattina a sera, rischiate di avere mille problematiche, perché i problemi ci sono, signori, non pensate che i problemi non ci siano, ci sono e fanno parte del gioco, se volete guadagnare, altrimenti state sul divano, investite in borsa, sperate, in borsa adesso, anche la borsa dovremmo parlarne, sperate che tutto vada bene, è guadagnato automaticamente, ma anche lì ci sono gli alti e i bassi, quindi ci sono anche lì delle strategie da attuare, penso di avervi dato già molti argomenti su cui riflettere, non fatevi incantare da chi vi dice che invece si schiacciano i bottoni e tutto è automatico, metteteci il calore, siate esseri umani, abbiamo un valore, dentro siamo delle persone che una macchina non potrà mai sostituire, pensate un'orchestra quando suona, la meraviglia della musica, un computer non potrà mai sostituire un'orchestra, fatto sta perché il calore, il tocco che gli dà l'essere umano, quella cosa unica al violino, alla tromba o al flauto, è unico e noi dobbiamo valorizzare questo aspetto che ci contraddistingue, quindi le macchine sono indispensabili, internet è indispensabile, l'innovazione è indispensabile, tutto è indispensabile, anzi dobbiamo abbracciarla, accettarla con piacere, le innovazioni perché appunto se sfruttate bene ci portano a migliorare la nostra qualità di vita, ma non abusiamone se stiamo con i piedi per terra, da Mickey Martinazzi da questa splendida, tre passi avanti, il percorso dedicato ai locatori lungimiranti, che vi permetterà di alzare l'asticella, triplicare, quadruplicare o quintuplicare, il vostro canone derivante dall'affitto breve, Mickey vi seguirà passo passo, cliccate sul link e schiacciate i bottoni e lì vedrete delle cose turche. Da questa giornata e da Mickey Martinazzi è tutto, a presto!